Il sindaco ieri ha scritto al prefetto, ha raccolto allarme, arrivati da più parti politiche, anche dall'interno stesso della maggioranza a 5 Stelle, sul problema che riguarda Piazza San Giovanni, da tutti definita ormai una vera e propria emergenza. Sicuramente è una situazione su cui bisogna non abbassare la guardia, bisogna mantenere l'attenzione. Devo dire che già le forze dell'ordine hanno fatto dare interventi in questo, anche negli ultimi giorni sono state una serie di operazioni, di arresti per spaccio di droga. Quindi si tratta comunque di una situazione che viene moridorata. Quello che chiaramente ho chiesto al prefetto è una riunione in prefettura urgente per discutere e verificare anche insieme quale sono altre soluzioni che si possono determinare. Perché questa zona che è oggi diventata un punto di riferimento per tanti cittadini, per i turisti, non sia una zona che poi abbia a lamentare episodi di criminalità o episodi di intransigenza o violenza, risse e quant'altro. Quindi è chiaro che in questo senso noi abbiamo fatto già un lavoro importante con la videosorveglianza, tutta quella zona è videosorvegliata. Quindi l'elemento fondamentale in questo senso noi l'abbiamo già messo in atto. Adesso servirà a coordinarsi in sede di prefettura per le varie azioni che si potranno fare. Avete già ricevuto una risposta da parte del prefetto? Non ancora, l'abbiamo inviata proprio ieri, ma conosciamo la sensibilità del prefetto su queste tematiche, quindi non dubito sul fatto che farà questa riunione. Quindi che potremmo avere un tavolo dove discutere in dettaglio su queste tematiche. Una delle lamentele che arriva da alcune parti politiche e anche alcune parti della società è quella che mancano gli spazi per alcune cose. Mancano gli spazi per i ragazzini, mancano gli spazi dove affrontare il disagio sociale. Quello dei ragazzini per esempio è un problema che abbiamo anche sollevato noi, le multe fatte ai genitori perché i ragazzini tornano a palla. Su questo aspetto l'amministrazione cos'è anche via a fare? In centro storico purtroppo vive una problematica che è quella della carenza degli spazi di aggregazione. Quindi l'unico spazio di aggregazione sono le piazze. Quindi sia Piazza San Giovanni che Piazza Poste sono sempre oggetto di interventi. Però devo dire che su questo noi abbiamo fatto una serie di interventi. Per esempio su Piazza Poste sapete che ci sono degli amanti dello skate che la utilizzano. E su quello abbiamo pensato allo skatepark proprio per dargli una struttura a disposizione dove possano praticare questo sport. Così come per esempio sul discorso del gioco del pallone eccetera bisogna necessariamente prevedere delle strutture. Avevamo pensato anche all'utilizzo della scuola però da questo punto di vista il campo necessita di incortire, necessita di alcuni interventi. Un'altra possibilità visto che molti di questi ragazzi tra l'altro sono ragazzi ospiti delle comunità di accoglienza. Quindi sono i migranti ospiti delle varie comunità di poter utilizzare il centro polifunzionale di Viale Colaianne per fare lì delle attività. C'è molto spazio anche all'aperto, ci sono delle sale che possono essere utilizzate. Quindi credo che questo un aspetto fondamentale è davvero poter coordinare un'attività insieme alle associazioni che si occupano dell'accoglienza. Perché tramite loro si può fare un lavoro importante. Tenere occupati i ragazzi è un modo per evitare che poi ci sia lozio e quindi che si derivi in atteggiamenti poco civili. Grazie.